Siamo in compagnia di Davide Poltronieri, guardia della Fiorentina Basket. Oggi vittoria sofferta, primo tempo convincente. Poi cosa è successo? Loro comunque sono una buona squadra. Noi siamo un po' calati, ma complici anche un po'. Ci siamo fatti nervosire dall'arbitraggio. Comunque ci sono stati gli episodi che non si è capito bene. Però è colpa nostra, perché noi ci siamo comunque fatti nervosire. Io per primo, quindi dovevamo cercare di stare più calmi. Siamo sempre riusciti a stare sopra. Sapevamo che loro sarebbero potuti rientrare. Comunque fanno tutti canezza, una buona squadra. Però fortunatamente siamo riusciti a portare a casa questi due punti. Tu personalmente 21 punti, 8 rimbalzi, 4 assist. Un'altra prova convincente, un'altra prova da leader della squadra che dà ispirazione e dà anche sicurezza nei momenti un po' più difficili. Beh, insomma, oggi ho fatto un po' di fatica nei momenti difficili. Ho sbagliavo parecchio, però ringrazio i miei compagni perché comunque mi metto in condizione di poter fare quello che riesco poi a fare. Quindi è anche merito loro e io cerco di fare semplicemente quello che serve per la squadra, poi sperando di vincere il più partito possibile.